ragazzi scuola eccoli qua gattini 3 neri essi sono lì tutti daniziati non si vedono molto sono in negozio stanno muovendo e se chiedo a Fabio se può spiegare un po' fuori quindi li vedete meglio ragazzi avevo spiegato che tanti portano tra i gattini orfani o comunque sia quelli che trovano magari nelle case nascono dopo non possono tenerli portano qua e Fabio le regalano è una che mi sta guardando che carini poi viene la restiera toglierte la ciotta per rimangiare l'acqua e la ciotta per riposare domani secondo me non si sentivano via subito i gattini vedete che sono proprio ce n'è uno lì in una sana non l'avevo visto perché mi sta guardando guardate ma che bello non l'avevo visto bianco e rosso bellissimo ma è divertente che carino vediamo se ci sta un po' in braccio due mesi e mezzo là sì maschio femmina ah sono maschio femmina i neri sono maschio femmina ma che carini che sono si arrampica ovunque è vero che però si stanno abbastanza bene insieme alle persone certo che sono benissimo dove vai tanto ti grazie no 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 ecco vanno oh che bello schioni in quanto si verrà fuori da via in fuori ma adesso perché io posso quella solo non posso si chiamerà pantera pantera nero due stanno dormendo dentro la due e uno bianco sono no quanto si verrà no